L'argomento di stasera è il multiverso. L'universo osservabile è per forza di cose una piccola porzione dell'universo totale. È probabile che nel nostro stesso universo, in un posto casuale, succeda un altro Big Bang con un'altra inflazione. I due universi potrebbero non toccarsi mai e quindi noi non sapremo mai dell'esistenza, non solo nello spazio, ma anche nel tempo.